cari pigliamosche bentornati sul nostro canale vi voglio parlare adesso di cefalotus follicularis in coltivazione alternativa è una cosa che ho fatto sul mio sito www.pigliamosche.com che parla di un esperimento che ho effettuato attraverso l'utilizzo di una spugna io ce la cuore spugna di una spugna per fiori secchi che ha altissima porosità scavata dentro a questo scavo che ho fatto col cucchiaino ho messo dello spagno e gli ho inserito un piccolo cefalotus già da due anni questo l'ho fatto un piccolo cefalotus ponendo la spugna in verticale troppe chiacchiere sto facendo ve lo faccio vedere secondo me sta funzionando sono passati due anni due anni da quando l'ho messo ma spero che vi possa creare degli spunti di riflessione e nuove idee per coltivare cefalotus il tutto nasce sempre da guardiamolo guardiamolo vedete il tutto nasce sempre da dall'idea di dare a cefalotus qualcosa di non di inorganico però di marcescibile perché qua c'è lo sfagno come elemento organico che appoggia nell'acqua è praticamente questa spugna scavata il suo letto il suo ancoraggio l'idea è quella di avere un cefalotus in parete come avviene in natura e in questo caso se uno lo riprende da vicino sembra uno spaccato di natura fa effetto e il suo posizionamento è nell'acqua cioè lui è posizionato nell'acqua la spugna si imbibisce di acqua quindi è sempre bagnata lo si può bagnare anche dall'alto questo è freschissimo è un po' come il discorso della pinguicola nella spugna della pinguicola messicana nella spugna solo che lui è posto in verticale vedete questo contenitore è pieno d'acqua è tutto fresco e bagnato e il cefalotus se ne sta lì oh sono due anni che è qua eh era piccolissimo sono nati anche le felci da sole non è che adesso sia un gigante però era veramente due minuscoline foglioline e sta crescendo e la cosa mi mi sta piacendo bisognerebbe vedere su larga scala come potrà funzionare o comunque nel tempo l'idea è questa io spesso lo bagno dall'alto vi faccio percolare l'acqua giù e questa questo contenitore fa sì che rimanga sempre umido perché la spugna un po' si riempie e per capillarità sale lo sfagno tiene tutto umido eccolo qua dove lo coltivo lo coltivo in serra vi faccio vedere dove vi ci porto andiamo oh ce la farò sì andiamo lo porto dove lui sta così capite sto entrando in serra là c'è l'altro c'è il gigantone lo vedete qua con il suo mattone che gli fa fresco perché anche lui si imbibisce d'acqua vedete che è bagnato d'acqua l'aria ci passa in mezzo e un pochino bassa la temperatura un piccolo trucchetto la c'è la super grosirona regia e lui se ne sta qua in basso con oppa là eccolo lui è qua con le spalle rivolto al sole che è dietro al tramonto vedete a fianco della vasca delle saraceni e leucofilla qua c'è l'irrigatore che si accende e che gli dà acqua ecco ed è da due anni così eh quindi mi pare che funzioni ragazzi volete sapere una cosa che mi fa mi fa sempre un po' innervosire quando la sento dire è dice come coltivi cefalotus come coltivi drosera regia come coltivi drosera crisolepis come coltivi gli anfori ma io la coltivo come tutte le altre piante carine ma cosa vuol dire io ho sentito sti discorsi a volte che dice io lo coltivo come tutte le altre piante carine wow si è accesa l'irrigazione vedete eccola qua umidità freschezza dice lo coltivo come tutte le altre piante carine ma le piante carnivore vengono da tutto il mondo cioè sotto alla voce piante carnivore non ci può stare un unico denominatore questa cosa mi fa ogni pianta carnivora ha bisogno della sua tecnica ha bisogno di trovare una sensazione di casa quando io vedo collezioni con piante carnivore tenute tutte uguali mi viene da dire ma e dov'è allora la mano del coltivatore? dov'è? non c'è cioè le metti lì con la torba, la perlite, con l'acqua sotto magari con il sole la difficoltà in una collezione importante è quella di avere di diversificare attraverso tante piccole tecniche tante piccole idee tante piccole proposte coltivative quella che è la location dalla quale proviene questa o l'altra pianta ok? oh mi sono comprato l'asta ritrovato tecnologico pazzesco ragazzi pigliamo che carissimi siamo davvero una grande famiglia e sono contentissimo di quello che sta avvenendo come sempre vi rimando al prossimo video sperando di avervi lasciato qualcosa che vi possa arricchire le vostre idee e darvi nuovi spunti di discussione mi raccomando ci incontriamo appunto in tutto ciò che sono i commenti e state attivi perché chi dorme veramente non le piglia le mosche ciao